Cucinavano la cocaina per produrre crack. Un appartamento di San Giorgio Canavese era un vero e proprio laboratorio per la preparazione, il confezionamento e la vendita della droga. Alcune persone avevano segnalato ai carabinieri di aver sentito uno strano odore provenire da quell'appartamento e un continuo via vai di ragazzi. Individuato l'alloggio, i carabinieri hanno atteso che uscisse uno dei ragazzi per entrare. I militari hanno immediatamente percepito un forte odore quasi respirabile. I carabinieri in nucleo operativo radiomobile, in collaborazione con i colleghi delle stazioni di San Giorgio Canavese, Rivarolo e Castellamonte, hanno arrestato per detenzione e fini di spaccio quattro persone tra i 23 e i 31 anni di Castellamonte e San Giorgio Canavese. La perquisizione ha permesso di trovare diverse dosi di cocaina e crack e tutto il materiale per il taglio e il confezionamento delle dosi. Le dosi erano camuffate da caramelle con involucro viola. Sono state accompagnate in carcere evrea a disposizione dell'autorità giudiziaria in attesa dell'udienza di convalida.